ciao a tutte ragazze bentornati sul mio canale video anteprima per la collaborazione che sto organizzando con silvia ferrante e grafic creation sunshine roberta lascio i link dei loro canali con le ragazze abbiamo accolto la sfida di clio di realizzare un trucco completo con soli tre prodotti e vogliamo allargare questa nostra collaborazione a tutte quelle di voi che vorranno unirsi per cui quando vedete questi video se vi fa piacere lasciate un commento sotto e poi ci organizziamo in base a quante siamo quando pubblicare il video di recupero per cui ragazzi spero che parteciperete numerose e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video ciao